Ho aperto questo locale sei anni fa e l'ho sognato sempre così, caldo e accogliente. Però che impegno a star dietro ai diversi aspetti della gestione. Ma per fortuna ho EasyCassa, un supporto tecnologico che mi semplifica il lavoro. Intendiamoci, non sono un fanatico della tecnologia, ma a me piace avere la situazione sotto controllo. In questo EasyCassa mi dà un grande aiuto, perché è molto più di un semplice punto cassa. È la soluzione OnlyOne che offre tutto in un unico e comodo abbonamento mensile. Il bello di EasyCassa è che mi dà tutto ciò di cui ho bisogno, come la possibilità di gestire i prodotti, di ammettere scontrini telematici o fatture elettroniche direttamente dalla cassa e di ricevere quelle dei miei fornitori in maniera semplice e intuitiva. È anche l'assistenza inclusa. Ah, e grazie alle funzioni gestibili via cloud, EasyCassa lavora sempre per me, anche quando sono fuori dal mio locale. Però, questo mese stiamo andando alla grande. Per fortuna, EasyCassa pensa anche a questo. La funzione magazzino mi segnala che sta finendo la birra. E allora mando subito un messaggio al fornitore per ordinarla. Cosa stavo dicendo? Scusate. Hanno consegnato la birra. È certo, perché EasyCassa mi semplifica la gestione del locale e ho più tempo per i miei clienti. E a questo punto direi di brindare all'innovazione, alle soluzioni senza pensieri e al futuro del mio punto vendita. EasyCassa, la soluzione di cassa all-in-one per il vostro punto vendita. In abbonamento!